Con quello che succede secondo la tua sensibilità... Sono un chitarrista, chitarrista acustico e mi incontrerò con due valenti musicisti che sono Pape, che è suonatore di cora africana della tradizione griot e Chiam Allami, che è un virtuoso del lud una musicista che suona questo stupendo strumento che arriva dal Medio Oriente e faremo un concerto inedito nel senso che è per la prima volta che suoniamo insieme ma anche è raro trovare insieme questi tre strumenti prendo insieme dei brani sia individualmente che suonati insieme come trio e che appunto saranno suonati per la prima volta al Teatro Torlonia il 2 dicembre non solo di strumenti e suoni imparentati ma diversi ma anche di stili, di culture e questa mi sembra perfettamente in linea con lo spirito del festival che in qualche modo come punto privilegiato ha proprio la promozione dell'incontro, del dialogo e dell'arricchimento reciproco attraverso culture diverse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.